La San Cataldese incappa nella seconda sconfitta di fila tra le Muramiche, stavolta a portare via i tre punti dal Valentino Mazzola e il Canicattì. In precedenza è stato il Sant'Agata di imporsi a San Cataldo. Contro gli Agrigentini, i Verdi e Amaranto sono apparsi nettamente in difficoltà, evidenziando una preoccupante involuzione di gioco e idee, soprattutto nella ripresa. Biancorossi in gol al 48esimo con Raimondi, una rete che galvanizza il Canicattì, abile a trovare poco dopo la via del raddoppio con Scalisi, che spegne definitivamente l'azione della San Cataldese, protagonista di una prova lontana dalla bella vittoria di Cittanova, ottenuta nel turno infrasettimanale. Al triplice fischio finale, l'esultanza dei canicattinesi a tre punti dalla vetta. Abbiamo sfruttato le nostre caratteristiche, avevamo studiato gli avversari bene, quindi faccio i complimenti al mio staff, al mio menzionale, al mio mistero in seconda, quindi siamo stati bravi a sfruttare determinate cose. Cresciamo partita con partita, però, come ho detto prima, dobbiamo sempre lavorare con questa umiltà, dobbiamo avere coraggio sì, però dobbiamo lavorare sempre con questa determinazione, con questa voglia, e questi ragazzi si stanno impegnando al massimo. I risultati della terza giornata del Girone I di Serie D Acireale-Lamezia 1-2 Licata-Catania 1-2 Santa Maria-Sant'Agata 0-3 Ragusa-Locri 1-3 Realla-Versa-Cittanova 1-1 San Luca-Mariglianese 1-1 San Cataldese-Canicattì 0-2 Vibonese-Castrovillari 1-1 Trapani-Paternò il 26 ottobre La classifica Catani-Lamezia 9 punti Realla-Versa-Vibonese 7 Locri-Sant'Agata-Ecanicattì 6 Castrovillari 4 Paternò-Ragusa-San Cataldese 3 Cittanova-Mariglianese 2 Trapani-San Luca-Eacireale 1 Licata-Santa Maria 0